Torta con le pesche e lo yogurt. È cremosa, è fresca ed è facile da fare, quindi non avete scuse per provarla. Lavate le pesche, eliminate il nocciolo e tagliatele a piccoli pezzi. Versatele poi in una ciotola con due cucchiai di zucchero, mescolate e lasciate riposare. Versate in una ciotola il mascarpone, lavoratelo, poi aggiungete tre cucchiai di zucchero e fatelo incorporare. Uniti ai tre vasetti di yogurt alle pesche, lavorate con le fruste elettriche in modo da ottenere una crema liscia e ben montata. Disponete nella pirofila i pavesini, bagnateli con l'insucco di frutta di pesca. Versate metà crema e livellatela. Fate un altro strato di pavesini e bagnateli sempre con il succo di frutta. Versate la restata crema e livellatela. Coprite la crema con l'ultimo strato di pavesini e bagnateli sempre con il succo di frutta. Aggiungete poi le pesche a pezzi e stendetele sopra tutti i pavesini. Coprite la pirofila con della pellicola trasparente e riponete in frigorifero per almeno 6 ore. È super buona e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu.